Ogni anno muoiono in Italia circa 50 bambini per incidenti come il soffocamento dovuto a un boccone ingerito male. E' sulla base di questo dato che la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri, ha presentato all'ARS un DDL che prevede una serie di iniziative con l'obiettivo di prevenire il soffocamento dei bambini da 0 ai 5 anni attraverso un'opportuna formazione sulla disostruzione pediatrica rivolta al personale di asilie e scuole dell'infanzia così come agli operatori di comunità, case e famiglia e centri di accoglienza per minori. Il decreto è stato approvato all'unanimità dalla Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana. Si attende adesso che il testo approdi in aula per l'approvazione definitiva. Credo sia una proposta utile per una maggiore sicurezza per i bambini in età pediatrica e quindi per una maggiore serenità dei genitori, ha dichiarato la Palmeri. Esistono tecniche di disostruzione da mettere in atto subito ma non tutti i genitori compresi le conoscono. Questo è il motivo, conclude la deputata regionale, per il quale è necessaria una veloce approvazione, quindi un'altrettanto veloce formazione in modo che tutto diventi operativo in breve tempo. La formazione, secondo il testo proponente, dovrà essere omogenea e di elevata qualità su tutto il territorio regionale. I formatori saranno accreditati e al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di esecutore, mentre i corsi si svolgeranno con una parte teorica, una pratica e una verifica finale. È nel rispetto delle linee di indirizzo del Ministero della Salute e secondo le linee guida internazionali. Finora chi opera in ambienti a rischio non è tenuto ad avere una formazione e abilitazione alle manovre di disostruzione pediatrica, come la manovra di Hemlich e di rianimazione, mentre sapere cosa fare in caso di emergenza è di vitale importanza, perché in caso di soffocamento il bambino può perdere conoscenza in meno di 30 secondi. Ci sarebbe da aggiungere che, a dire la verità, è da almeno un decennio che la Croce Rossa, ad Alcamo come in altri distaccamenti, si opera con corsi di formazione a tutto spiano, proprio per far conoscere queste manovre e farle praticare ai più profani o ai non esperti.